Una decisione storica. In tutto il Messico l'aborto è stato depenalizzato. A deciderlo la Corte Suprema che con una sentenza unanime ha dichiarato incostituzionale l'ordinamento giuridico che criminalizza l'aborto del Codice Penale Federale perché viola i diritti delle donne e delle persone in età fertile. Solo due anni fa la stessa Corte aveva dichiarato incostituzionale la criminalizzazione dell'aborto. Una decisione molto attesa. Ad esempio se una donna viene violentata e non vuole avere il figlio ci sono persone che pensano perché non lo dà in adozione ma non capiscono il dolore che hanno sofferto ed è per questo che sono favorevole all'aborto, spiega questo giovane. Si tratta di una svolta in un paese dove oltre l'80% dei suoi 130 milioni di abitanti si dichiara cattolico. Non tutti però sono d'accordo. Penso che non dovremmo togliere la vita a nessuno. Siamo esseri umani e non credo che sia giusto, dice questa donna. Il governo di città del Messico è stata la prima giurisdizione latinoamericana ad autorizzare l'aborto nel 2007. La maggior parte degli stati lo consente fino a 12 settimane. Secondo le Nazioni Unite quasi la metà delle gravidanze nel mondo sono indesiderate e il 60% termina con un aborto e il 45% delle interruzioni sono insicure.